Come iniziare nel mercato delle criptovalute, come avere accesso, come comprare i primi bitcoin e soprattutto come si usano, ragazzi questo argomento è sempre all'ordine del giorno ma negli ultimi periodi ho dato un'occhiata a una serie di app, a una serie di servizi nuovi, innovativi, estremamente tecnologici che mi sono piaciuti tantissimo sapete che non ne parlo quasi mai ma quando trovo qualcosa che mi emoziona, che mi dà soddisfazione, allora preferisco portarla qui sul canale Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi parliamo della mia nuova carta per le criptovalute nuova carta che si aggiunge alla mia precedente che era quella Wirex, di cui vi ho parlato in tantissimi video, ho fatto anche un video su un ATM ma oggi ragazzi vi parlo di questa carta qui, questa nuova carta allora intanto ragazzi è arrivata pochi giorni fa, l'ho già testata, sono da un po' di giorni che la sto stressando come sempre faccio, prima di portarvi qualcosa qui sul canale, sono andato a vedere tutto quello che funziona, tutto quello che non funziona è valida questa carta, ha senso o non ha senso, ne parliamo in questo video ma prima di andare nel vivo di questo video vi farò vedere una serie di cose, andremo anche sulla mia app, andremo anche online sul web vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi anche un pollicione in su e fatemi sapere cosa ne pensate, se avete già provato, molti di voi hanno già provato questa carta che è quella del servizio Crypto.com perché già un mesetto fa ho fatto un video sulle possibilità di profitto che si erano verificate su questo tipo di exchange o di app nuova, molti di voi mi hanno seguito, ragazzi abbiamo portato a casa veramente circa 40 punti a oggi ovviamente poi molti di voi sono già usciti magari dall'operazione, io ancora sono dentro per una serie di motivi ma andiamo a parlare della carta, ragazzi, che cos'è intanto? allora questa è una carta di credito Visa debit, quindi una carta di debito in realtà che deve essere ricaricata ogni volta che noi vogliamo utilizzarla per comprare qualsiasi cosa che è di nostro interesse questa carta però, ragazzi, a differenza delle solite carte ricaricabili come anche la posta pay per esempio può essere ricaricata utilizzando sia euro normalmente ma anche criptovalute sì, perché all'interno dell'app di Crypto.com esiste un wallet diviso abbiamo il wallet per le monete fiat, quindi gli euro e poi abbiamo il wallet per le criptovalute quindi voi potete mettere all'interno di questa app le vostre criptovalute, le tenete lì poi quando volete ricaricare la carta perché dovete andare a spendere qualcosa, a comprare qualcosa le scambiate in euro, ricaricate questa carta e poi, ragazzi, potete utilizzarli tranquillamente questo è un modo anche di utilizzare le criptovalute ma significa anche spendere le nostre criptovalute quindi questa carta, ragazzi, la potete anche utilizzare semplicemente ricaricandola in euro con un'altra carta di credito o con un bonifico perché è un conto inglese, ragazzi quindi voi potete tranquillamente mettere su gratuitamente un bonifico con le vostre somme in euro e andare a utilizzare questa carta, vi farò anche vedere il perché anche utilizzandola semplicemente per i vostri acquisi e spendendo euro è estremamente vantaggioso perché il cashback di questa carta è estremamente elevato ok ragazzi, allora, questa è l'app principale di Crypto.com io ho messo su qualcosina per iniziare a provare quest'app allora, intanto vi faccio vedere il tasto centrale che è lo schermo principale quello dove potete vedere una serie di servizi che ci sono a noi quello che interessa in questo momento sono le card e ci interessa anche i vari wallet, i due wallet uno e quello di criptovalute, ragazzi questo è invece il wallet fiat acquistare bitcoin in questa applicazione è estremamente semplice perché voi potete andare tranquillamente qui su bitcoin premete plus e vi fa comprare bitcoin con la carta di credito non ci sono fii in questo momento di acquisto di bitcoin una volta che noi abbiamo i bitcoin, ragazzi i stessi bitcoin possono essere poi utilizzati anche per ricaricare la nostra carta o per fare una serie di cose che è possibile realizzare all'interno dell'app di Crypto.com quanto costa registrarsi e richiedere la carta su Crypto.com ragazzi non costa niente, lo so, sembra strano, però è esattamente così anzi, vi dirò di più, vi lascio il link di referral qui sotto in descrizione se utilizzate i miei link come sempre mi date una mano ma in particolar modo vi danno 50 dollari vi danno 50 dollari in criptovalute se utilizzate questo servizio, ora vi faccio vedere come ve li danno e come dovete fare per averli però ragazzi non solo è gratuita ma addirittura vi danno anche un bonus tutte le carte di Crypto.com ragazzi, allora qui le possiamo comparare tranquillamente in maniera molto molto veloce intanto vi dico già da subito che per avere il bonus ragazzi dovete richiedere la carta rossa quindi quella gratuita, se voi chiedete la carta gratuita, questa blu, questa free che vedete qui, c'è il bonus dei 50 dollari quindi per ottenere il bonus dei 50 dollari su questa carta ragazzi dovete iscrivervi dal link che vi lascio in descrizione e poi richiedere la carta rossa per richiedere la carta rossa ragazzi però c'è uno stake da fare cioè depositare, acquistare 50mco che la loro criptovaluta di base e tenerli in stake per 6 mesi allora chi è nuovo del mondo cripto non sa cos'è lo stake lo stake semplicemente ve lo potrei riassumere in maniera estremamente basilare come il famoso i pronti controtermine della banca ragazzi voi prendete queste cripto, le comprate dopodiché le prestate di nuovo a Crypto.com ma questa azienda che le tiene, le detiene, le blocca per quanto riguarda a voi e in corrispettivo di questo blocco monetario vi dà la carta rossa ve la invia a casa equivalgono a circa 200€, 220€ a seconda delle oscillazioni di MCO MCO a volte sale a volte scende starei attento ragazzi con questa criptovaluta per una serie di motivi ho fatto anche un video dove parlo di queste cose per chi è esperto delle cripto vi lascio il video intanto del mio investimento su Crypto.com per farvi vedere quello che ho combinato il mese scorso più 40 e passa per cento di rendimento vi faccio vedere tutto in questo video andatevelo a vedere c'è anche un webinar dove ho spiegato tutto quello che andava fatto quali sono i plus che vi danno con questa carta rossa intanto il cashback ragazzi il cashback del 2% e poi vi danno anche spotify gratuito cioè se voi utilizzate questa carta per l'abbonamento spotify vi rimborsano il costo di spotify direttamente in criptovalute sulla vostra carta queste cripto di cashback e di rimborso ragazzi possono essere convertite di nuovo in euro subito con un minimale di 20 euro quindi dovete arrivare a 20 euro e poi li potete convertire e rispendere nuovamente vi ho richiesto la carta verde quindi ho bloccato 500 mco ma vedete che mi danno lo stake anche un reward sullo stake di mco fra più o meno 170 giorni saranno disponibili io poi li potrò sbloccare e rivendere ragazzi lì bisognerà capire poi quanto varrà questa criptovaluta fra 6 mesi quindi ricordate sempre che è tutto estremamente rischioso qui ci sono come vedete tutta una serie di plus che io ottengo attraverso lo stake degli mco che chiaramente sono vantaggiosi in questo caso perché se li manteniamo così vedete abbiamo una serie di servizi una serie di privilegi mentre se io tolgo la spunta allo stake vedete che anche il cashback si abbassa notevolmente quindi da 3% per esempio con il rimborso di spotify e netflix se ne va all'1,5 come funziona questa carta quindi fatte tutte le nostre considerazioni andiamo a capire come funziona questa carta perché poi alla fine quello che ci interessa è ma va o non va allora i vantaggi ragazzi principali sono il cashback il cashback funziona benissimo io l'ho provato sia su amazon l'ho usato per acquistare su amazon l'ho usato per utilizzarlo su spotify netflix mi sta per scadere ragazzi quindi al prossimo rinnovo lo userò anche per netflix ma soprattutto l'ho usato in una serie di post il cashback è immediato quindi appena avviene il pagamento ci viene accreditata la criptovaluta in questione ci viene immediatamente accreditata sul wallet e il cashback è perfetto ragazzi il 3% della vostra spesa come funziona invece la carta? perché il problema di queste carte ragazzi è che spesso non sono accettate in tutti i circuiti allora questa è una visa debit quindi in realtà ragazzi una specie di visa electron la chiameremo così qual è il problema? intanto non funziona su apple pay quindi se avete apple pay questa carta non funziona e non funziona nemmeno su paypal quindi non potete usarla per i vostri acquisti di paypal io ho trovato un trucco per bypassare questa cosa appena lo testerò ve ne parlo questo è un trucchetto che mi darà la possibilità di utilizzare questa carta anche per gli acquisti su paypal per gli acquisti su apple pay però ve lo dirò tra qualche giorno ragazzi tra qualche video e poi un'altra cosa che ho trovato non funziona su tutti i post quindi a volte quelli post mi rifiutano la carta per esempio non funziona per fare la spesa di benzina sembra strano quindi se io vado a utilizzare questa carta al distributore di benzina non mi ha funzionato alcuni dicono che funzionano altri no al di là di questi piccoli difettucci di età ancora troppo tenera non ho trovato grandi difetti a questa carta di crypto.com oltre a essere estremamente bella è di metallo ragazzi pesa tantissimo c'è il nome stampato qui insomma ragazzi i codici sono dietro quindi non si vedono funziona anche in contactless beh io devo dire la verità questa è una carta che entusiasma quando la ricevete cosa ho deciso di fare io ho deciso di trasferire tutti i miei acquisti tutti i miei utilizzi delle carte di credito anche per i miei abbonamenti online sulla carta di crypto.com perché il cashback è notevole e lo voglio utilizzare nei prossimi video andremo anche a vedere tutte le opportunità di investimento che possiamo fare investimento in stake e quanto profitto si può realizzare con queste carte anche perché io per esempio ho utilizzato la loro criptovaluta alternativa che si chiama C.R.O. per fare veramente tanti tanti profitti in un solo mese bene per oggi è tutto fatemi sapere quello che pensate vi piace o meno questa carta ragazzi io l'ho trovata estremamente bella devo dire la verità entusiasmante fatemi sapere vi lascio il link per i 50 dollari in descrizione noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao